L'improbabile impresa dell'iguana Ida Ida Liguana era un'incredibile inventrice con una passione per i gelati. Un giorno decise di creare un gelato perfetto usando ingredienti bizzarri e divertenti. Iniziò a mescolare succo di arcobaleno, pezzetti di marshmallow al sapore di nuvola e una spruzzata di polvere di stelle. Ma non era tutto, aggiunse anche scintille di fata, gocce di rugiada, zuccherata e una spruzzata di risate friccianti. L'iguana, tutta impettita, invitò i suoi amici a provare la sua incredibile invenzione. Il riccio Isidoro, l'istrice Irma e l'ippopotamo Ivo. Si avvicinarono curiosi, ma anche un po' scettici. Ivo fu il primo a provare. Interessante! esclamò con un grande sorriso, mentre il gelato cominciava a brillare. Irma diede una timida leccata e subito iniziò a ridacchiare in modo incontrollabile. Inchidibile! disse, con gli occhi che brillavano di gioia. Isidoro, il più indeciso, finalmente assaggiò. Irresistibile! gridò entusiasta, iniziando a saltellare per l'emozione. Presto, una fila interminabile di animali si formò davanti alla gelateria improvvisata di Ida. L'iguana, incredula ma felicissima, lavorava instancabilmente per soddisfare le richieste. Ogni cono di gelato aveva un effetto speciale. Alcuni facevano ballare, altri facevano cantare e altri ancora facevano vedere le stelle. E così, grazie alla sua idea innovativa e un po' bizzarra, Ida diventò l'inventrice più famosa della foresta, inaugurando una nuova era di gelati dai gusti davvero strabilianti e divertenti. La foresta non fu mai così piena di risate e allegria.